Hai mai provato la fibra Vodafone? Che sarà mai, le fibre sono tutte uguali. La fibra Vodafone è ancora più veloce. Fino a 500 mega a Milano, Bologna e Torino. E fino a 100 mega nel resto d'Italia. Sì, veloce, ma quando in casa sono in 5, navigare? In famiglia navighiamo tutti in contemporanea. Grazie alla Vodafone Station Revolution. E poi magari il wifi è lento. E hai anche un wifi quattro volte più potente di un modem tradizionale. che ti segue in ogni angolo della casa. Sì, però... E c'è pure Netflix, incluso per sei mesi. E in più, con il Vodafone Mobile Wi-Fi, puoi navigare liberamente anche quando sei fuori casa, con 15 giga in 4G. Sì, ma chissà quanto ci mettono ad attivarla. Ma figurati, puoi navigare da subito con il Vodafone Mobile Wi-Fi. A partire da 25 euro. Fibra Vodafone. Fino a 500 mega. Wi-Fi quattro volte più potente. 15 giga in 4G. Tutto a partire da 25 euro. E Netflix, incluso per sei mesi. Ma allora le fibre non sono tutte uguali. E se ti dico che c'è anche per partita IVA? Chiama il 180 o vieni nei negozi Vodafone o su Vodafone.it. Vodafone. Power to you.